Siamo in studio con Francesco Mura, il sindaco di Nuguedu Santa Vittoria. La scorsa settimana nel nostro telegiornale un pezzo di Paolo De Sogo si ha chiamato in causa la comunità di Nuguedu con un progetto particolare dicendo delle cose che al sindaco non sono state recepite nella maniera giusta perché giustamente il pezzo di Paolo tendeva a dare uno spaccato probabilmente anche diverso, anzi sicuramente diverso da quello che ora Francesco ci dirà. Allora intanto Francesco per diritto di replica naturalmente benvenuto quindi qui da noi da Super TV, cosa non è andato bene prima di tutto in quel pezzo? Allora posto che benvenga la critica, benvenga un altro parere rispetto a quello che abbiamo noi perché a volte presi dal lavoro cerchiamo un attimo di autocompiacerci e di dire che va tutto bene. Però nel pezzo che è andato in onda su Super TV qualche giorno fa ci sono state delle inesattezze a partire dal fatto che i piccoli comuni e in particolar modo Nuguedu non gode di robusti bilanci assolutamente. Proprio per questo motivo si è pensato di creare un progetto come Nuguedu Welcome. Si parla nel pezzo di manifestazioni più disparate, quasi dispergiativo, non è così. E soprattutto non posso accettare che il progetto di Nuguedu Welcome venga ridotto a un evento di cucina all'aperto. Non è così. Il 9 di agosto è stato fatto il Social Eating Day che è l'evento lancio di Nuguedu Welcome ma Nuguedu Welcome è un progetto che va ben oltre il suo evento lancio. Tutto l'anno le persone che hanno aderito al progetto hanno la possibilità di ospitare e di fare ristorazione in casa con un target turistico che noi chiamiamo un target di viaggiatori, di viaggiatori esperienziali, coniando così un termine che abbiamo voluto chiamare turismo morbido. Un progetto che ha l'ambizione di adattarsi a una comunità come quella di Nuguedu, una comunità attanagliata dallo spopolamento e dalla povertà che vede proprio nella carenza dei risorsi umani uno dei principali problemi. E con questo progetto vogliamo appunto ravvivare la linfa vitale del paese avviando un percorso di crescita dal punto di vista turistico e dell'accoglienza. Allora, quindi queste inesattezze riportate nel pezzo. Partiamo appunto da questo tesoretto che c'è nell'immaginario collettivo che i piccoli comuni, proprio per via della distribuzione della quota fissa da parte della regione Sardegna, abbiano più soldi in proporzione delle grandi città. Questo non è così? Assolutamente no. È nell'immaginario collettivo degli amministratori delle grandi città, non nell'immaginario collettivo di tutti. I piccoli comuni sono quelli che hanno pagato più di tutti le leggi di pareggio di bilancio, avendo risorse proporzionalmente enormi, bloccate e vincolate, dovute a una serie di cose, anche in alcuni casi inadeguatezza di amministratori. Però in altri casi, nella maggior parte dei casi, ha l'inadeguatezza degli organici dal punto di vista numerico, non qualitativo. Allora, Noguedu che si apre, perché abbiamo seguito anche lo scorso anno una manifestazione in particolare con degli ospiti stranieri, fatto lì sul monte, all'aperto praticamente, in aperta montagna, con una struttura fatta ad hoc proprio con dei traduttori. Cosa resta di questo, di queste manifestazioni a Noguedu? Della manifestazione dell'anno scorso resta un patrimonio di contenuti importantissimo, a partire dallo scambio culturale che facciamo con i tre comuni, quello bulgaro, quello spagnolo e quello portoghese, per poi proseguire i contenuti che ci diedero i relatori di quel convegno, che furono Renato Soru, Andrea Murgia e Mario Secchi. È tutta un'esperienza che ci ha portato a capire bene quale può essere il ruolo di una periferia come quella di Noguedu, perché Noguedu e i piccoli paesi sono periferie d'Europa, il ruolo che possono avere nell'Europa del futuro. Allora, un paese in via di spopolamento, come molti del Barigadu, ma non solo del Barigadu, di buona parte della Sardegna, e quindi deve in qualche modo creare delle attrattive, deve scommettere su qualcosa. Su cosa scommette Noguedu? Ovviamente Noguedu scommette sulle risorse umane, scommette sul patrimonio immateriale, culturale, che ancora conserva in maniera abbastanza ottimale. È su tutta una serie di iniziative ed attività che stanno nascendo e che potrebbero nascere sposando le nuove tecnologie. Come dicevo prima, il nostro progetto di ristorazione diffusa, il nostro progetto Noguedu Welcome, si basa sulla sharing economy, è l'economia della condivisione, ossia gli utenti che vogliono consumare dei pasti o partecipare a degli eventi organizzati nel Noguedu Welcome, vedono e possono acquistare i ticket e la partecipazione quasi esclusivamente online, tramite i social network, tramite Facebook, tramite la nostra pagina Facebook e tramite tutti i social network in cui siamo presenti, dove abbiamo avviato un percorso comunicativo e di narrazione importante Nel pezzo di Paolo De Zogus si parlava anche di una struttura che potrebbe essere recuperata ma che tu distrattamente come sindaco non la noti? Ovviamente la provocazione di Paolo io la colgo, però rispondo a Paolo De Zogus dicendo che il ristorante al quale lui fa riferimento è un ristorante che è chiuso da ormai dieci anni con un danno strutturale causato dal tempo che da un preventivo che abbiamo ci costerebbe 200.000 euro e più per la ristrutturazione, ma soprattutto, viste anche le due esperienze che sono state negative di affidamento di quella struttura in passato, oggi vale realmente la pena investire più di 200.000 euro per ristrutturare quel locale e riaffidare un ristorante che per questioni geografiche avrebbe veramente grossissime difficoltà ad andare avanti? Io penso di no, io penso che il futuro sia da un'altra parte, il futuro sia verso progetti innovativi sostenibili e non nelle cose tradizionali che dalle nostre parti già hanno dimostrato di non funzionare, quantomeno quello che è successo a Nugedo è evidente. Il pezzo si concludeva facendo riferimento, se vogliamo anche con un po' di satira, alla transumanza delle pecore verso i fornelli, come direi che voi siete capaci di organizzare solo ed esclusivamente sagre della pecora? Noi non abbiamo mai organizzato nessuna sagra della pecora, la pecora è un elemento importantissimo della nostra cultura, della nostra tradizione, come lo è il maiale, come lo è tutta una serie di peculiarità agricole. Noi l'ultimo evento, la narrazione dell'ultimo evento si è basata sulla pecora e sulla sua cultura, però in futuro ci saranno narrazioni basate su tante altre cose che Nugedo può offrire, comprese quelle che lo stesso Palo del Gioco cita nel suo pezzo, come il Monte Santa Vittoria, come le Domus dei Anas, come il sito dei Sugastellu, che sono degli attori principali del nostro progetto, perché ogni qualvolta un viaggiatore esperienziale viene a Nugedo per consumare un pasto, chi lo accoglie propone ogni volta prima e dopo il pasto una visita, le visite alle nostre bellezze archeologiche o naturalistiche. Come stai spendendo quindi le risorse che Nugedo ha? Le poche risorse che Nugedo ha le stiamo spendendo per le esigenze primarie di Nugedo, ma anche, quindi dal punto di vista delle opere pubbliche, abbiamo fatto diverse cose, ma abbiamo voluto investire anche su diverse azioni immateriali come Nugedo Welcome, come i progetti di residenza d'artista, come il progetto di contrasto al non finito sardo, ossia tutta quella serie di interventi a favore dei privati al fine di completare e abbellire le abitazioni non finite, con un programma di decoro urbano mirato all'utilizzo di specie autoctone, quindi con bassi costi e con alte qualità visive. A settembre è prevista la visita, sono due gruppi in due giorni diversi di tedeschi se non sbaglio? A settembre è prevista la visita di due gruppi di tedeschi che aderiscono al programma di Nugedo Welcome, in due case, quindi non più all'aperto come l'evento lancio, ma nelle case dei nugedesi, quindi vivranno delle giornate come le vivono quotidianamente i nugedesi. A settembre, inoltre, dal 5 al 9 di settembre è previsto il campus SPOP Omodeo, il campus Omodeo organizzato da Sardark e dal comune di Nugedo, dove per cinque giorni 35 studenti universitari collaboreranno assieme ai docenti di diverse università europee al fine di trovare e di ideare politiche di contrasto allo spopolamento. Lo spopolamento, ovviamente, non è solo una questione numerica, noi non pretendiamo che Nugedo diventi un paese di 10.000 abitanti, non lo vogliamo nemmeno. Vogliamo che Nugedo, anche stando nel target numerico che è, sia un paese dove sia piacevole vivere e dove si possa avere l'opportunità di crescere, di svilupparsi e di creare ricchezza, come in molti altri posti nella nostra Europa, che già è così. Abbiamo visto che ci credi molto all'Europa. Ci credo tantissimo, sono un europeista convinto, credo sia l'unica soluzione, l'unica via d'uscita a questa condizione di crisi socio-economica che ci attanaglia. Magari non quest'Europa, ma un'altra Europa, forse? L'Europa è fatta di persone. Ogni persona conta uno e la sintesi di queste idee porterà l'Europa verso la direzione che le persone che la vivono vogliono. Un'ultima domanda relativa alla condivisione. Condividete già con altri paesi le scuole, i servizi sociali. Come va questa condivisione? Ma con alti e bassi va bene. Noi facciamo parte dell'Unione dei Comuni del Barigato, dove abbiamo diverse attività in comune, a partire dal servizio di raccolta dei rifiuti, a partire dalle scuole, che abbiamo associato già in tempi non sospetti, prima dei tagli dettati dalle norme nazionali e regionali. E adesso stiamo facendo i conti con una riforma degli enti locali disastrosa, pessima, antidemocratica, che questa giunta regionale ci ha voluto imporre, ma che noi, o quantomeno io, nella parte che mi riguarda, contrasterò fino alla fine del mio mandato. E gli altri sindaci dove stanno? Gli altri sindaci ciascuno per i propri... Dovreste essere uniti in una battaglia del genere? Sì, ma lo siamo, lo siamo. Anci ha già espresso pareri negativi contro la riforma degli enti locali, come ha espresso pareri senza condizionamenti di natura politica per tutte le altre riforme che questa giunta ci vuole proporre, quindi siamo pronti a dare battaglia ogni qualvolta ce ne sarà l'occasione. A proposito di battaglia, il rapporto con Abanoa? Ma il rapporto con Abanoa è difficile, come dappertutto, è difficile perché il passaggio da una gestione pubblica a una gestione privata non è mai un passaggio facile. A Nugedo abbiamo grandi problemi di qualità delle acque, soprattutto in una zona del paese. Quest'anno, per fortuna, non abbiamo avuto interruzioni del servizio durante tutta l'estate. Abbiamo lavorato alla ricerca idrica non per il servizio urbano, per l'utilizzo civile, ma per l'utilizzo rurale. Abbiamo lavorato, abbiamo fatto un progetto di ricerca idrica dove abbiamo trovato, abbiamo avuto la fortuna di trovare una falda acquifera importante di altissima qualità e abbastanza ricca che ha soddisfatto le esigenze del mondo delle campagne di Nugedo. E con questa domanda noi concludiamo questa intervista. Mi ha fatto davvero piacere ospitarti, Francesco. Siamo partiti dal tuo diritto di replica, ma poi ne abbiamo approfittato per dare uno spaccato reale. Quindi le informazioni, come dire, ci stai dando una lezione di giornalismo, le informazioni vanno prese alla fonte? No, lungi da me dare lezioni a nessuno, soprattutto a voi che dimostrate sempre grande professionalità e anche in questo caso ne avete dimostrato tanta. All'amico Paolo lo invito a venire a Nugedo e ci faremo una chiacchierata. Partiremo da Nugedo Welcome e la finiremo con tutte le altre cose che lui vorrà affrontare. Ovviamente non ci faremo dettare la linea da Paolo ma da nessun giornalista. Abbiamo le nostre idee. Poi che cosa che cosa che cosa sono? Grazie a tutti.